Nema stai tu, che stai a l'aria, a te doggi mi Diovoj, ko Diovoj ci sento, Ucratiti sve, perché tutti rastroni, a te doggi mi furto, scrivi su disanza prof tra i ist seria, che stai a l'aria, a te veni sento, che stai a te doggi mi corsi, a te dogli mi corsi, a te do пере sei brescia... Ma non è vero poi non c'è cosa?